Ed eccoci nuovamente in diretta con la seconda parte dei nostri telegiornali all'Istituto Alberghiero Barbarigo di Venezia. Mille ragazzi da tutto il mondo, quasi il 90% trova lavoro prima di finire la scuola. Per la presidente della provincia, Francesca Zaccariotto, si tratta di una professione strategica per la vocazione turistica del Veneto. Vediamo. Cucine di tutto il mondo, aspiranti chef, cuochi per diletto, anche in tv quasi non si parla d'altro. Stare ai fornelli non è più roba da casalinga disperata, quanto piuttosto la moda del momento, ma anche una professione dal futuro rosio. E chi insegna a infornare l'anatra all'arancia o una creme brulee lo sa bene, 8 studenti su 10 trovano lavoro immediatamente. Siamo in una di queste scuole votate alla cucina, un istituto alberghiero che opera nel cuore di Venezia. Al Barbarigo, a Castello, studiano mille ragazzi. Il 35% arriva da tutto il mondo e sono in partenza tra le nuove classi. Il percorso dura 5 anni, la preparazione culturale è un caposaldo. La formazione e l'istruzione, non dimentichiamo la cultura dei nostri ragazzi, perché possono trovare un posto di lavoro, sì, ma da persone pienamente istruite e formate. Non dimentichiamo questo, a volte i nostri istituti sono considerati una seconda scelta, non è vero. Con le mani però sempre in pasta, integrazione continua tra scuola e lavoro. Un'offerta che risponde ad un mercato del lavoro, un'offerta che soddisfa quelle che sono le aspettative dei ragazzi e che molto probabilmente, visto i numeri che ha raggiunto, stimola quelli che sono i nostri ragazzi a fare questo tipo di percorso. Settore strategico, quello delle vellutate e del tiramisù, per Venezia in primis, ma per tutta la nostra terra, ricca di piatti della tradizione che hanno saputo rinnovarsi, grazie a questi cuochi preparati e appassionati. Un settore sul quale investire, secondo la provincia, e le due rinomate sedi veneziane verranno presto restaurate. 200.000 euro la spesa prevista, ma il piatto sembra valerli tutti.